Namaskaram Sadhguru, c'è molto dibattito sugli immigrati negli Stati Uniti in questo momento. Qual è la soluzione a ciò? L'America è una terra di immigrati, va bene? Anche oggi c'è un grande afflusso. Se apri i tuoi muri e i cancelli, penso che in tre mesi avrai una popolazione di un miliardo. Ok? Quindi la migrazione è una questione enorme. Se 1,6 miliardi di persone iniziano a migrare, nei prossimi 8-10 anni si suppone che accadrà, sta già accadendo. Semplicemente immagina quale città sarà vivibile nel mondo. Semplicemente immagina, domattina se ci sono 20 milioni di persone in più a Los Angeles, puoi costruire delle abitazioni per loro, puoi fornire loro i servizi di base, puoi mantenere l'istruzione per loro, la sanità per loro, nulla è possibile. Persino in un paese con questo livello di ricchezza non sarà possibile costruire ciò. Quando le persone migrano, vedi, devi capire questo, al momento tra l'Africa e gli Stati Uniti e in Spagna, in Italia e in tutti questi posti, ogni anno migliaia di persone annegano in mare, non vengono menzionate, i media non lo racconteranno. Nessuno vuole raccontarlo perché sono persone indesiderate. Ma alcuni morti verranno menzionati, i morti vengono menzionati. Qualcuno è in grado di raccontare la sofferenza umana, di lasciare la propria patria, di trascinare le proprie donne e i bambini e andare da qualche parte. Quella sofferenza qualcuno può a me raccontarla, sto chiedendo. La morte è l'unica cosa che conta? La sofferenza umana conta, non è così? La sofferenza umana non può essere raccontata dai mass media. Solo se accadono dei morti, diranno, sono morte 100 persone, sono morte 200 persone, ma non è quello il vero punto. Quelle migliaia di persone che hanno lasciato le loro patrie, dove hanno vissuto da sempre, e arrivano cercando disperatamente qua e là, che perdono le loro mogli e i figli e i mariti e cercano qua e là, questa non è una cosa da poco. La migrazione, la migrazione non pianificata è un processo molto crudele e non è solo in un paese, sta accadendo ovunque. Quindi, delle persone che finiscono in luoghi sconosciuti senza sapere cosa siano, soprattutto per le donne e i bambini, è una storia dell'orrore. Una o due generazioni attraversano delle vere storie dell'orrore. Quindi, perché le persone stanno migrando? Vengono fornite ogni tipo di ragioni, ma ti farò una domanda semplice. Se avessi un pezzo di terra e il suolo fosse ricco, lasceresti quella terra e te ne andresti? Se avessi alberi su quella terra, la lasceresti e te ne andresti? Puoi facilmente sopravviverci, almeno un'agricoltura di sussistenza accadrà, il tuo nutrimento accadrà, anche se non guadagni dei soldi. Le persone non lasceranno questo per andare via. Al momento, questo è in discussione. Il nutrimento di base è in discussione, quindi negli ultimi 40 anni abbiamo eliminato quasi il 37% del terriccio superficiale del mondo. Non esiste più. L'abbiamo mangiato, l'abbiamo buttato via, ci abbiamo fatto qualcosa, ma non è dove dovrebbe essere. Quindi abbiamo del suolo per altri 80-100 raccolti. Qual è il nostro piano? Per domani, nel 2035, prevedono delle enormi carenze alimentari, semplicemente perché questa volta, di solito, le carestie accadono per mancanza d'acqua. Ma oggi abbiamo la capacità di trasportare l'acqua attraverso condotte e canali, ma questa volta accadrà per mancanza di suolo. La chiamano estinzione del suolo. Hai sentito parlare dell'estinzione dei dinosauri? Hai sentito parlare dell'estinzione dei dodo? Ma questa è l'estinzione del suolo, è questo che stiamo vedendo. Ma, almeno a livello ecologico, se il suolo è ricco, le persone rimarranno su quella terra. Non la lasceranno per andare da qualche parte. Ci sono altri problemi. In questo momento mi dicono che 30 città sul pianeta possiedono il 72% degli investimenti mondiali. Con questo tipo di investimenti sproporzionati, ovviamente le persone si accumuleranno tutte in un posto. devono essere distribuiti. Se gli investimenti devono essere distribuiti, chi rischierà di estendere i propri investimenti verso un luogo in cui è più difficile fare affari? Devi creare un fondo che consentirà dei soldi un po' più facili. Se vuoi dei soldi facili, devi investirli nelle società impoverite. Quindi, stiamo esaminando questo in modo approfondito, cercando di lavorare con le Nazioni Unite e le grandi imprese, creando un fondo in cui le imprese riceveranno dei prestiti agevolati per dei lunghi periodi di gestazione, 12-15 anni. Così è il tempo di andare lì, formare le persone, creare dei talenti e creare un'impresa e creare dei mezzi di sostentamento lì, affinché le persone non debbano andarsene. Che tipo di imprese? Beh, le imprese possono decidere di quale tipo, a seconda del terreno, delle persone, della natura di tutto il resto che c'è lì, dell'ecosistema. Ma, se non facciamo questo ora, se non distribuiamo gli investimenti mondiali in varie aree, vedrai, quando un segmento della popolazione vive con così tanto comfort e benessere, un altro segmento non ha nulla, non puoi controllarlo. Per tutti questi anni l'hai controllato, perché non c'erano i trasporti. Capisci? Ora, tutti hanno i trasporti. Quando 1,5 miliardi di persone iniziano a muoversi, non un muro. La gente cercherà di costruire muri ovunque. E il muro è una soluzione solo finché la marea non raggiunge un certo livello. Quando la marea aumenta, scavalcherà il muro. In un modo o nell'altro, entreranno, non importa che tipo di barriere tu metta. Nei prossimi dieci anni arriveranno comunque. A meno che, tu non metta degli investimenti in vari posti e non crei dei mezzi di sostentamento. Le imprese devono essere strutturate così. La tua ambizione, qualunque essa sia, voglio che tu capisca questo. Te ne renderai conto man mano che vai avanti con la tua vita, ma se te ne rendi conto prima, è meglio. In termini di attività, qualunque attività svolgiamo nel mondo, Quanto profondamente tocchiamo un'altra vita è la soddisfazione più profonda dell'attività. Questo è lo scopo dell'attività in realtà. Vuoi scrivere un libro che nessuno vuole leggere? No. Vuoi cucinare qualcosa che nessuno vuole mangiare? Vuoi costruire un edificio dove nessuno vuole vivere? Quando fai qualcosa, vuoi che tocchi la vita di qualcuno. Quindi, se la cosa è questa, devi pensare in questi termini. Come avere un impatto sul massimo numero di vite e dove possiamo farlo? Se non creiamo questa opportunità e permettiamo che le migrazioni accadano, vedrai accadere delle cose terribili. Questo crescerà in modo notevole se non diffondiamo gli investimenti. Se non diffondiamo le imprese nelle società che sono colpite dalla povertà in questo momento. Grazie. Grazie.